Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Siamo ormai abituati a vedere Charlene di Monaco sempre al fianco del principe Alberto nei panni della principessa, ma sapete com'era prima di incontrarlo? Una bellezza fuori dal normale, vediamo il clamoroso cambiamento . Charlene e Alberto di Monaco.La bellezza di Charlene è nota a tutti, ma le immagini del passato di lei sono la conferma La sua semplicità hanno conquistato l'ereda al trono monegasco, ma l'avete mai vista prima, quando era giovanissima? Uno splendore, vediamola, è incredibile Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video